Musica Ehi gente bentornati in questo nuovo video Quest'oggi siamo sulla mappa del Great Escape Allora mi sono svegliato letteralmente 15 minuti fa Quindi se sentite la mia voce un po' strana Il mio modo di parlare un po' strano Lasciate perdere Welcome to the Great Escape Start the map Ah proprio così inizia non c'è niente altro che Ok iniziamo The Great Escape Le regole rimani in Adventure Mode Ok Gioca con la Default Texture Pack troppo tardi E non change the map settings Ok Ok qua c'è una tramoggia Dove c'è una broom handle Ti do il libro in cambio Con la broom handle che ci posso fare io? Mi sa niente Però qui strano c'è qualcosa Ok Ho aperto non so cosa Ah c'era tipo Ah ok Adesso con questi Cosa devo fare? Pipe cutter Pipe cutter Che ci faccio io adesso Con questo pipe cutter? Me ne infilo su per il cubo No veramente Cosa ci devo fare con questo? Forse per te c'è qualcos'altro Che non ho visto No Qua sopra non posso fare niente Pipe cutter Pipe 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 Che cazzo significa pipe? Significa tagliatubo questo E quale cazzo di tubo vedi? Scusa ma per sapere Come fai a vedere dei tubi? Dove li vedi i tubi? Non li vedo i tubi No no Non li vedo Questa mappa è Un rompicapo Vero e proprio Ok abbiamo appurato Questa mappa E' troppo difficile Per non essere Da un IQ come me Sì abbiamo capito Oh fammi uscire Dove lo vedi il tubo? Non siamo in Super Mario Ma va a fanculo va Chau Chau Grazie a tutti.